Si ribalta la bilancia commerciale con la Grecia. Nei primi nove mesi del 2016 la Puglia ha esportato più di quanto abbia importato. L'anno prima è stato l'inverso. La crisi ellenica, che ha fortemente penalizzato gli aziende pugliesi, inizia finalmente ad allentare la morsa. Nel 2015 le esportazioni si erano ridotte del 29,7%, mentre le importazioni erano cresciute del 27%. Il saldo commerciale dunque è stato negativo per ben 53 milioni. Da gennaio a settembre 2016 invece le esportazioni sono aumentate del 41%, mentre le importazioni sono diminuite del 29%. La Grecia è stato sempre un buon acquilente di beni di consumo dall'Italia. Oltre il 90% delle esportazioni è rappresentato da prodotti manifatturieri. Il manifatturiero però rappresenta circa il 65% dei beni importati dalla Grecia. Il resto sono principalmente prodotti agroalimentari.